Buongiorno a tutti, Osservatorio Galassia 5 Stelle, oggi con un ospite, un altro caro amico, Jacopo Iacoboni, notoriamente innamorato del nostro Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, quindi dovendo affrontare il tema Conte e tutto ciò che è intorno a Conte, negli ultimi giorni c'è stata anche la uscita di Renzi che ha contestato a Conte la delega ai servizi, insieme a Nicola e Marco abbiamo pensato di chiamare anche Jacopo che segue le Contiadi, le possiamo chiamare così, con grande attenzione e con grande passione. Buongiorno a tutti e tre innanzitutto. Buongiorno, ciao ragazzi, buongiorno. Allora, da chi cominciamo? Jacopo, vuoi cominciare tu a darci qualche indicazione anche di quello che sta succedendo in questi giorni, ma soprattutto di quello che sono stati questi anni in cui abbiamo fatto la conoscenza del Presidente del Consiglio? Sì, allora, noi oggi stiamo parlando, diciamo, è venerdì, quindi, no, perché qui le cose vanno proprio, diciamo, di minuto in minuto, no, di ora in ora. Nel momento in cui parliamo noi, quello che sta succedendo è che c'è la caccia ai responsabili, che non si chiamano più i responsabili, perché è una cosa che evocava un po' troppo le vicende passate di Scilipoti, di Razzi, non so se ricordate. E quindi adesso c'è stato il suggerimento contiano di chiamarli i costruttori. Siccome voi sapete che io sono molto filogovernativo, un po' per mia natura e un po' proprio per particolare considerazione per l'abilità del governo, io non li chiamerò più los responsables, ma li chiamerò i costruttori, cioè delle persone che stanno cercando di salvare la legislatura nel momento in cui c'è una pandemia. Questi sono i loro argomenti, li riferisco zonata cronista. In questo momento c'è uno spin fortissimo di Palazzo Chigi per dire che c'è una rotta nelle truppe renziane e anche in pezzi di Forza Italia e che quindi i responsabili ci sono, sono stati trovati. Questo è quello che dice Palazzo Chigi. Io sinceramente non vi posso confermare questa cosa. Mi dispiace, lo farei molto volentieri se potessi assicurare una notizia che reca aggiovamento alla stabilità che molti vogliono, però a me i numeri ancora non tornano. Con questo non dico che non li troveranno da qui a lunedì perché mi sembra che il grande vantaggio che Conte ha conquistato, la vittoria enorme che ha conquistato al Quirinale nella seconda salita è stato del tempo. Gli sono stati dati quattro giorni. Sai, in quattro giorni è veramente tutto possibile, no? Al momento a me pare che gli manchino, secondo i miei calcoli, cinque o sei senatori e non sono pochi. Ma comunque proprio a bocce ferme se si fanno i conti del Senato, lui deve conquistare 15 senatori in tutto. Ce ne sono diciamo sette del gruppo misto che sono pronti, li chiamano questo nuovo gruppo di tabacci, no? E gli altri sette, sentite, ci saranno, come dice Bettini, si paleseranno al momento opportuno. Forse effettivamente si possono palesare e questo lo vedremo. Adesso al momento io non so, diciamo, mi sembra che ne manchino, vi ho detto, cinque circa, se vogliamo fare una fotografia della realtà. Naturalmente noi non sappiamo tutto quello che c'è nei sotterranei, sotterranei, no? Cioè tutto quello che appunto verrà fuori all'ultimo momento. Però io considererei, vi inviterei a considerare un'ultima cosa, poi mi taccio, perché questa diciamo è l'introduzione proprio sul, scusate, bieca situazione parlamentare, però almeno parliamo con dei numeri, perché poi anche la politica ha dei dati, ha dei numeri, non è solo un, come dire, un esercizio astratto, cioè è una professione. Pochi stanno considerando il fatto che il punto chiave, secondo me, in questo momento è se il centrodestra inizia una analoga e contraria campagna caccia di voti tra il Movimento 5 Stelle. Cioè Conte, secondo me, diciamo, rischia se pensa di essere l'unico, diciamo, di solito queste compravendite politiche, sottolineo, perché qui non stiamo parlando di reati, è tutto stralegittimo e anzi è la libertà del Parlamento. Però avvengono nei due sensi. Se si muovesse Salvini, che diciamo, quando si andrà a votare, io penso nel 2023, secondo le stime attuali ha una stima per difetto, Salvini e Meloni avranno insieme il 40%. Sottolineo, ha una stima parecchio per difetto. Credo che abbiano la possibilità, se lo vogliono, di prendere 5 o 6 senatori grillini e promettere, diciamo, un futuro nel centrodestra. È una cosa perfettamente legittima farla, cioè non si tratta di corruzione, si tratta di politica. Se lo fanno, non sono più 15 i numeri che deve trovare Conte, ma diventerebbero molti di più. Questa è anche una buona cartina di Tornasole per vedere se Salvini e Meloni veramente vogliono far cadere Conte. Io ho un po' il sospetto che... Io non ne sono convinto. Io non sono affatto molto. Ecco, io non dico mai delle cose con certezza, perché poi si viene sempre smentiti e arrivano poi i Pierini così. Però non sono convinto neanche io che il governo Conte, Casalino, Arcuri, non sia, come dire, la pacchia per il centrodestra. In attesa, in fondo si voterà, cioè, per tardi che, tra un anno e mezzo, due. Hanno tutto il tempo di organizzarsi con Conte e di... Però, però, c'è un però, nel senso che Salvini, dopo la botta che ha preso per quell'insipiente mossa dell'estate del papete, c'è tutto un fronte della Liga che è composto da persone come Giorgetti, Molinari, che, diciamo, non mi sembrano così prive di mosse intelligenti, ecco. Quindi, ecco, questo è il quadro. Bisogna vedere se, sai, oggi se Salvini va nel gruppo grillino e dice a sei grillini, a cinque grillini, vi candido in posti sicuri nel 2023, Conte cade. Non so se lo farà, sinceramente. Potrebbe farcela, perché è comodo tenere lì, alla fine, una figura del genere. Un governo in mano a Mastella. A cui è facile fare opposizione, insomma, anche di carattere non... Chi di noi potrebbe non sparare su questa croce rossa? Cioè, giornalisticamente... Certo. Jacopo, se posso, in termini di numeri, ci sono i numeri per un ingresso di Forza Italia? calcolando i cinque, sei che Salvini si porta via? No, ma un ingresso in che senso, diciamo? Tu dici... Un ingresso in maggioranza. Conte premie, con Conte premie, diciamo. No, 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 senza Conte premie, ovviamente. No, ma no, ma qui però io suggerisco di stare proprio al passo dopo passo. Cioè, ora quello che è sul tavolo è se Conte vince o perde la conta parlamentare. Se la vince potrebbe fare o un... Va avanti con, diciamolo, chiamiamolo un Conte 2 bis. No? Se la perde non c'è più Conte. A quel punto è uno scenario completamente diverso. Se la perde, cioè, io credo che c'è una situazione poi di responsabilità istituzionale che a quel punto chiamerebbe in causa tutti e si sarebbe sgombrato questa vicenda. Però, appunto, bisogna vedere come va questa vicenda, insomma, alla fine. In questo momento, paradossalmente, cioè, è proprio in Forza Italia che non si trovano los responsables, diciamo, o i costruttori. Non ci sono al momento. C'è un attacco molto forte su due o tre Renziani di Italia Viva. Sinceramente non vi so dire l'esito. E poi c'è, diciamo, appunto uno di questi è Nencini, no? Qui sembra che l'esito sia positivo. Però, appunto, con questi numeri io, veramente, scusate, non voglio fare il prudente, però questa è la fotografia, poi fate voi le vostre considerazioni. Può veramente succedere di tutto. Certo. E comunque c'è il weekend in mezzo in cui, che è un tempo sufficiente anche per fare determinate valutazioni e manovre. Allora, in realtà, il tema principale, al di là della strettissima attualità, era quello di valutare, insieme a voi tre, i rapporti che Conte e una parte del Movimento 5 Stelle ha avuto verso l'estero. In particolare, verso la Russia di Putin, ne avevamo già detto qualcosa qualche settimana dietro, ma in particolare, anche qui stiamo alla stretta attualità, con l'amministrazione Trump. E per partire ad analizzare questa cosa, per partire, volevo ricordare che uno dei punti sollevati da Renzi negli ultimi mesi e abbastanza ripetuto con vigore da Renzi è la famosa questione della delega ai servizi che Conte ha tenuto per sé a lungo. Non c'è nessuna norma, nessuna legge che indichi che non lo possa fare, ricordiamolo. Lui, tra l'altro, mi pare che dalla Gruber ha ricordato questa cosa, che non ha nessun obbligo di rilasciare la delega, ma che è buona prassi rilasciare una delega così importante ad altri che non sia la Presidenza del Consiglio. E allora cerchiamo di capire che cosa... facciamo un piccolo esercizio di etrologia forse, io non ho elementi sostanziali per dire che ci siano stati dei rapporti non propriamente limpidi, non è quello che voglio dire, però ci sono sicuramente dei comportamenti, delle uscite pubbliche, ultima quella relativa alla bruttissima scena a cui tutti quanti abbiamo assistito, aizzata da Trump contro il Capitol Hill, in cui l'atteggiamento del Presidente del Consiglio è stato quantomeno equivoco o, se vogliamo, fin troppo indulgente nei confronti di Donald Trump. A voi la parola. Inizio io e poi perché voglio ricordare un paio di fatti. Il primo è, parlando del rapporto tra il Movimento 5 Stelle e l'amministrazione Trump, l'incontro che avvenne nell'estate del 2018, direi, quando ci sono state le elezioni, poco dopo che ci fu il voto politico e a cavallo, insomma, nelle stesse ore in cui si stava formando il primo governo Conte, Davide Casaleggio incontra Steve Bannon a Roma. Il 3 o 4 giugno del 2018. Esatto, esatto. Il governo giura il 4 giugno. Incontro che non viene pubblicizzato, non viene informato il pubblico di questo incontro, anche se sarebbe stato oltremodo opportuno, perché Davide Casaleggio, lo sappiamo, è considerato alla strega di un leader di partito e di conseguenza nel momento in cui il principale consigliere della Casa Bianca, in quel momento, no, forse no, perché era già stato licenziato, però l'ex consigliere di Trump, il deus es macchina della campagna elettorale di Trump incontra il capo di fatto del partito che sta formando il governo, è chiaro che è un incontro di rilevanza pubblica e quell'incontro non fu disclosed, non c'era un'informazione su quell'incontro. E poi ricordiamo anche, proprio in relazione anche ai fatti di questi giorni, quello che sta succedendo al governo Conte 2, l'articolo del futuro presidente degli Stati Uniti, fra meno di una settimana, Biden, che ricordava e, come dire, svelava, evidentemente con fonti molto più informati delle mie, gli aiuti che anche il Movimento 5 Stelle, oltre alla Lega di Salvini, ha ricevuto dalla Russia di Putin. Noi, io e Nicola abbiamo documentato nei nostri libri incontri tra esponenti del partito di Davide Casaleggio con esponenti del partito di Putin, la partecipazione al congresso del partito di Putin, insomma, è chiaro che la situazione internazionale e i precedenti stanno contando molto anche in quello che sta succedendo adesso con la caduta del governo. È chiaro che se Trump avesse rivinto le elezioni probabilmente ci troveremmo davanti a uno scenario totalmente diverso. Sulla delega dei servizi lascerei parlare Nicola, che ovviamente ne sa molto, molto, molto più. No, bene, ha fatto Jacopo a, insomma, circoscrivere sull'attualità, proprio di queste ore, la cornice entro la quale ci muoviamo. Oggi chi ha letto i giornali e chi ha potuto leggere le centinaia di dichiarazioni fatte da esponenti politici di primo, secondo e terzo ordine, ha notato una cosa molto semplice. Non c'è nessuno che parla bene di Conte. Tutti dicono c'è la pandemia, ci teniamo questo governo. C'è la pandemia, non possiamo bloccare l'attività del governo. Io vorrei essere veramente poco diplomatico in quello che sto dicendo. Quello che ha fatto Nicola Zingaretti ci allontana enormemente dal nostro principale alleato storico che è Washington e ci allontana in maniera siderale dal nuovo presidente degli Stati Uniti, che è quello che, non bisogna dimenticarlo, non ha vinto un'elezione qualsiasi. Ha sconfitto un uomo pericoloso, probabilmente per sé, per la sua famiglia e per tutti noi, che per quattro anni ha governato gli Stati Uniti. Questa è una responsabilità storica, gigantesca. D'altronde, Nicola Zingaretti, che io ricordo bene da giovane responsabile della FIGC, è un uomo limitato. ed è capace di fake news degne di Steve Bannon, quando riesce a dire che questo è un attacco, quello di Renzi è un attacco alla democrazia, che noi ci schieriamo dalla parte non delle fake news e dell'assalto renziano, ma dalla parte della democrazia. Un corno. Giuseppe Conte, questo è noto a tutti, io ricordo bene gli articoli di Jacopo, per esempio, Giuseppe Conte è l'uomo che nell'agosto 2019, mentre il bugiardo Nicola Zingaretti faceva, diceva, non riproponeteci Conte, fa qualcosa, qualcosa di cui è rimasta traccia in una scatola nera che pochissime persone in Italia sanno, fa qualcosa per ingraziarsi il cialtrone in capo Donald Trump, che infatti gli dedica una serie di atti di stima. Ecco perché Zingaretti si sta prendendo una gigantesca responsabilità politica, quella di voler rimanere al governo a ogni costo tenendosi l'amico di Trump a Palazzo Chigi. Scusa Nicola, posso ricordare due, due, tre date solo circa il discorso che stai facendo tu? Ne hai facoltà. Noi, io e te sappiamo benissimo la storia di Barra e cosa, però forse facciamo un servizio di dire, cioè, di che stiamo parlando. Allora, nel 2019 succede questo, Barra va due volte al ministro della giustizia di Donald Trump, attorno ai general, uno dei più sfegatati e ossequienti tra i trumpisti, va due volte a Roma, a giugno e a ferragosto, incontra Conte e gli chiede sostanzialmente che l'Italia aiuti la controinchiesta che sta facendo Barra e il procuratore americano John Durham sul Russiagate. Cioè, praticamente Trump ha incaricato di fare un'inchiesta politica per demolire il Müller Report e le evidenze del Müller Report affidandola al suo guardasigilli. Già questa, voi capite, è una cosa abbastanza inaudita, ma inaudito tra gli inauditi, Barra va a Roma due volte, incontra il presidente del Consiglio, il quale gli concede di incontrare a Roma i capi dei nostri servizi segreti, Aise e Aisi, il ministro della giustizia americano. Cioè, non un normale scambio di informazioni tra pari, cioè tra capi di intelligence, ma un'autorità politica, il ministro guardasigilli americano, incontra i capi dei servizi segreti italiani, che quindi si trovano in una situazione imbarazzantissima di essere esposti a un rapporto politico profondamente improprio e irrituale con uno Stato estero. È l'estate in cui poi a Biarritz, Conte e Trump si appartano a parlare, al G8 di Biarritz, una ventina di minuti. Dopo pochi giorni c'è il famoso endorsement di Trump a Conte per il nuovo governo, Giuseppi, con il refuso in cui Trump lo chiama Giuseppi, dicendo è un uomo di grande talento e di capacità. La domanda che facciamo è che cosa si aspetta Trump in quel momento da Giuseppe Conte? Che cosa gli è stato concesso? Non lo sappiamo, perché in realtà i servizi italiani, da tutte le risultanze che abbiamo, l'inchiesta verte su un particolare specifico, cioè sull'incontro a Roma tra il professore maltese Joseph Miftu del consigliere di Trump, Giorgio Papadopoulos. In questo incontro sarebbe avvenuto, secondo Trump e secondo Papadopoulos, quello che Papadopoulos chiama il settaggio, cioè loro hanno creato un frame, una narrazione, loro, cioè i democratici, un complotto dei democratici mondiali, ordito da Obama con l'appoggio di Renzi e del Deep State, dicono loro, democratico, per incastrare Miftu e quindi per far iniziare l'inchiesta del Russiagate sulla dichiarazione di Miftu da Papadopoulos, che ci sono le mail hackerate di Hillary Clinton. Noi, da quello che mi risulta, credo che risulterà anche a Nicola, i servizi italiani non trovano nessuna evidenza che supporti questa tesi, cioè che Miftu sia in realtà un agente occidentale, come vorrebbe Trump, di un complotto occidentale contro Trump e non, come ritiene Robert Mueller, un asset dei servizi segreti russi e come invece, diciamo, poi su questo possiamo discuterne più specificamente, sulle risultanze del... nel Mueller Report ci sono due evidenze forensi molto forti che testimoniano i contatti di Mueller con la Troll Factory di San Pietroburgo e con il Ministero della Difesa russo. Queste sono evidenze, prove, non sono chiacchiere. I servizi italiani non trovano niente che possa compiacere Conte, a quanto... scusate, che possa compiacere Trump e Barr, a quanto mi risulta. Cioè i servizi non compiono nessun atto in questa circostanza ostile alla verità e all'interesse nazionale. Il problema però è a monte, cioè cosa... già il fatto stesso che Conte abbia concesso questa, come dire, chiamiamola ispezione, questa mega ispezione di Barr in Italia con i capi dei servizi segreti italiani, può dare a Trump l'impressione di avere un premier come un po' Zelensky in Ucraina che è sotto il pacchero di Trump. Io non so se sia così, ma bisogna, come diceva il vecchio detto, la moglie del re deve non solo essere onesta, ma anche sembrare onesta. E certo la profonda renitenza di Conte a qualsiasi dichiarazione di minima condanna di Trump è abbastanza palese ed evidente. Vi faccio gli ultimi due... Scusate, sono stato lungo, ma ho fatto cronaca. Poi lascio a Nicola commentare. Gli ultimi due episodi sono la vittoria di Joe Biden, in cui nel commento ufficiale Conte è l'unico dei leader occidentali che non nomina Biden. Dice, grande vittoria del popolo, grande le elezioni hanno... il popolo americano ha parlato, diciamo, con un tweet che provoca un forte imbarazzo tra gli americani, diciamo, nella nuova amministrazione americana. Conte sarà il decimo tra i capi di governo occidentale a riuscire a parlare con Biden. Ci parlerà dopo molti giorni, solo nella terza tornata, insieme alla Cina, al ministro degli esteri cinese, neanche Xi Jinping, dopo che Biden, scusate, aveva già parlato in quest'ordine, con la Germania, con la Francia, con il Regno Unito, con l'Irlanda, con il Canada, con l'Australia. E, insomma, arriviamo buoni ultimi. Seconda cosa, la cosa che accennava Nicola, quando ci sono i... l'attacco eversivo al Parlamento americano da parte dei sostentori di Trump, attacco fomentato e istigato dagli account social di Trump, Conte non nomina Trump nelle parole di condanna di questo episodio. A differenza di quello che fanno Angela Merkel, Heiko Maas, Joseph Borrell, l'altro rappresentante europeo. Insomma, tutti vedono in Trump un ruolo attivo di istigazione di questa vicenda. E tutti nominano Trump. Conte è l'unico che non lo fa. Forse, diciamo, c'è materiale per chiedersi come mai c'è questa timidezza così prolungata. Nicola, rispondi tu a questo. Adesso che ho fatto questo piccolo riepilogo per chi non sa. Scusate, sono tutte cose note, eh? Che voi sapete benissimo. Io vado a logica. C'è un solo motivo per cui Giuseppe Conte ha fatto tutto quello con certezza, tutto quello che Jacopo ha raccontato. Un solo e unico motivo. Aiutare nella campagna per la rielezione di Trump il vecchio inquilino della Casa Bianca contro Joe Biden. Questa è l'unica spiegazione ragionevole e razionale. Ed è gravissimo se questo sia... è mai avvenuto. Però questo potrebbe spiegare logicamente tutti i punti che Jacopo ha enumerato. C'è solo questa ipotesi che nel gioco del fango, della ricerca dell'immondizia da ritrovare per colpire il candidato Joe Biden, l'Italia ha avuto un ruolo. E se questo è mai avvenuto, sarebbe davvero un terremoto epocale per questo paese. Io vorrei ricordare, qui Jacopo ha lavorato molto e io lo so bene, insomma, perché ci sentivamo spessissimo. Io vorrei ricordare che noi abbiamo un Presidente del Consiglio che ha ammesso un convoio militare composto da spie nel cuore dell'Italia. Gli ha permesso una vittoria di immagine, una vittoria diplomatica incredibilmente straordinaria. Il famoso sbarco della missione medico-umanitaria, così c'è stata propagandata, di quel convoio militare russo che poi, atterrato a pratica di mare, arriverà a Bergamo nei primissimi tempi della pandemia. In quel momento i fari delle diplomazie di Mezzomondo si sono accesi a Roma. Ed è avvenuto qualcosa che Jacopo ha raccontato molto bene e che in quel periodo io ho provato anche a registrare, e cioè una vera crisi profondissima sia nell'alleanza atlantica, ma sia anche con i nostri vicini francesi e tedeschi. Noi abbiamo visto le bandiere russe di un regime autoritario, di un regime che ha avuto un ruolo molto forte nella campagna elettorale americana, ma anche in quella tedesca, anche in quella francese. Come in quella italiana, come scrive, ricordava Canistrari, Joe Biden, nell'articolo uscito il 14 gennaio del 2018 su Foreign Affairs, tre mesi prima delle elezioni del marzo 2018. Esatto. Noi abbiamo questo Presidente del Consiglio. Ecco perché io qualche giorno fa scrissi, noi stiamo, il PD sta difendendo un amico di Putin e Trump. Quello sta facendo. Ed è una responsabilità epocale, davvero epocale. Se mai dovesse venire fuori, prima o poi, una evidenza che nella campagna di delegittimazione profondissima che Trump ha, di cui è stato l'autore, contro le istituzioni americane e contro il suo concorrente Joe Biden, poi eletto, se ha giocato un ruolo Giuseppe Conte, questo sarebbe un colpo durissimo al nostro paese. Anche perché ricordiamo che da ex Presidente degli Stati Uniti, Trump avrà comunque accesso ad alcune carte riservate dell'amministrazione americana e quindi questo potrebbe tranquillamente spiegare il motivo per cui Conte è preoccupato del fatto che queste informazioni possano uscire. Cioè, Trump non è che perde accesso, totale accesso all'intelligence americana, perché la Costituzione americana e le leggi americane prevedono che gli ex Presidenti abbiano una forma di accesso ad alcuni dati riservati. In realtà, Marco, ti devo interrompere, questo è uno degli obiettivi politici molto forti che i democratici americani vogliono perseguire appunto con l'impeachment a Trump. Assolutamente. Perché l'impeachment di un Presidente che ormai sta abbandonando la Casa Bianca, che a noi comuni mortali sembra un po' una vendetta politica postuma a babbo morto, in realtà comporta una serie di conseguenze, fra cui quella che Trump non potrà mai più ambire a un ruolo pubblico, a un ruolo politico. Ciò significa che viene depennato appunto da quel procedimento, da quel processo che tu giustamente sottolineavi. Ecco il motivo per cui è stato avanzato ed è stato votato l'impeachment poche ore fa. Scusate, possiamo dire una cosa, Costantino? A proposito mi faceva venire in mente adesso quando ha detto questa frase dell'attacco di Trump contro la democrazia americana. In realtà io aggiungerei che proprio per il ruolo degli Stati Uniti e per l'importanza anche tragicamente creativa che ha avuto la presidenza Trump. Quello di Trump è stato un attacco alla democrazia, to cure. Ed è per questo che ci riguarda così da vicino, non solo per il ruolo diciamo tradizionale degli Stati Uniti, ma anche perché Trump e il suo entourage hanno effettivamente rappresentato la punta più avanzata di una serie di modalità di lotta politica completamente non ufficiali o a cavallo tra l'ufficialità e la non ufficialità, che sono poi state o copiate oppure addirittura erano state precorse in alcuni paesi. Qui veniamo all'Italia e all'uso delle propagande italiane che poi diciamo coincidono con l'arrivo al potere della Lega e del Movimento 5 Stelle e poi diciamo la stagione di Conte, che sono esattamente quello che noi chiamiamo il trumpismo, no? È nato in Italia. Al di là, non solo è nato in Italia, ma come dire, sono diciamo, poi è nato uno potrebbe dire che ovviamente loro non avessero bisogno di guardare l'Italia. In realtà poi qui si aprirebbe tutta una questione su quanto conoscessero di quello che io avevo chiamato l'esperimento, no? In realtà non io, Carlo Buffet, diciamo, l'ingegnere che lavorava con Casaleggio alla fine degli anni 90, ma insomma questo esperimento che cos'è? Che poi si sublima nelle parole, nelle visioni di Steve Bannon che usa questa parola e di Donald Trump. È molto facilmente spiegato. Creare una massiccia propaganda coordinata e organizzata, che è grey propaganda e black propaganda, perché è non ufficiale, cioè le sue fonti non sono spesso direttamente attribuibili a Trump. In realtà Trump poi oltrepassa la linea e diventa direttamente dai suoi account il... c'è stato ieri un bellissimo pezzo di David Remnick in cui Trump veniva chiamato istigator in chief, l'istigatore in capo. Diventa direttamente lui l'istigatore, con una dinamica che si è vista soltanto un'altra volta, anzi poche altre volte, ma diciamo nelle democrazie europee. E cioè quando, per errore, storia che loro due conoscono bene, sul blog di Grillo e Casaleggio invitano a sostanzialmente un attacco molto violento contro, in quel caso la Presidente della Camera Laura Boldrini, ma diciamo quello che conta è l'istituzione, no? E anche il ruolo di una donna nella democrazia dicendo che fareste voi da solo in macchina con questa donna. Al di là dell'orrore di questa frase, di quel post, la cosa interessante era che cosa svelava? Cioè che sì, queste operazioni che di solito vengono fatte nella non ufficialità dei siti anonimi, degli account anonimi, delle cose non riconducibili, avvenivano qui direttamente sul luogo ufficiale, come poi a farà Trump quando in questi giorni, voi avete visto, i suoi tweet, poi diciamo è stato alla buon'ora chiuso il suo account perché chiamavano alla rivolta violenta contro il Parlamento americano. Ora, cos'è la stagione in cui diciamo viviamo? È una stagione in cui ormai questa linea tra ufficiale e non ufficiale si è oltrepassata. Qui vorrei che commentaste il caso di ieri, perché dobbiamo far capire, diciamo, se succede sull'account di Trump un'istigazione alla violenza, gli account vengono chiusi e tutto il mondo democratico, almeno la maggior parte del mondo democratico applaude a questa chiusura, perché non è censura, non è free speech, è istigazione alla violenza. Ieri è accaduto che sull'account ufficiale del Presidente del Consiglio Italiano si è apparsa l'indito a un meme contro Renzi, a iscriversi a un gruppo manda a casa Renzi, quindi diciamo propaganda contro Renzi e già questo sarebbe estremamente discutibile sull'account di un Presidente del Consiglio. Ma, cosa ancora più grave, si linkava a un sito chiamato informazionevera.it che, stando a quanto rivelò Carlo Bonini su Repubblica, secondo le inchieste della Procura di Roma nel 2018, era un sito centrale nel network che attaccò Mattarella. Vi ricordate quando si chiedeva l'impeachment molto violentemente di Mattarella. Infatti, 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 me lo ricordo benissimo. Qui c'è un'impresa della Procura di Roma. Certo. Cioè, siamo arrivati al punto in cui l'account ufficiale di un Presidente del Consiglio Italiano linka a un sito che compare in maniera inquietante e opaca al centro di un network che attaccò Mattarella con cose tipo... Vabbè, non le voglio ripetere, veramente, queste non le voglio ripetere, perché, cioè... Ma a proposito anche dell'attacco a Mattarella... No, scusa, finisco, finisco. Loro poi hanno detto, avevano evocato anche la possibilità di un hacker. Io ieri mi sono preso lo sfizio di chiamare Facebook. Ovviamente, ecco, qui Marco forse potrebbe intervenire, magari spiegare due o tre cose, l'ovvio. Se ci sono dei posti difficili da hackerare, sono Apple, Facebook, cioè tutto si può fare, ma hackerare un account di sicurezza nazionale, come quello poi, diciamo, rilevante per la sicurezza nazionale di un Presidente del Consiglio, sarebbe una cosa che richiede una quantità di tempo e di risorse e di skill difficili anche da immaginare. Comunque, insomma, io prendendoli, come dicono gli americani, at face value, quello che diceva Palazzo Chigi, sono andato a chiedere a Facebook se ci fosse stata attività maligna o addirittura un'intrusione riuscita, ci sarebbero delle tracce forensi, come appunto Marco magari può spiegare. Facebook non ha rilevato nessuna traccia al momento di un hackeraggio su Conte. Quindi qui ci sono una serie di profili, black propaganda, congiunzione tra il profilo ufficiale del Presidente del Consiglio con profili che stanno in inchieste per gli attacchi di squadrismo digitale a Mattarella. Ci sono profili di verificare se questa evocazione dell'hacker sia stata o meno una bugia deliberata da parte dello staff di Palazzo Chigi. Ci sono molte domande, molte cose che andrebbero chieste. Mi pare, in definitiva, che siamo perfettamente nella sfera del trumpismo digitale. Anzi direi che Trump è nella sfera del casaleggismo digitale, scusate, fa un po' ridere, ma è così. Sì, no, ma allora, io mi sento totalmente di escludere quella possibilità. Io l'ho presa sul serio perché sai, se Palazzo Chigi lo dice, tu devi andare a verificare. Ovviamente devi andarlo a verificare, ma questi servizi ormai esistono da un po' di tempo, no? Non esiste il servizio sicuro. Una falla è sempre possibile trovarla e sicuramente da qualche parte c'è, però ormai la comunità di esperti di sicurezza, quando trova, nella stragrande maggioranza dei casi, quando trova una falla la segnala all'azienda perché l'azienda paga i ricercatori per correggere questi problemi, per evitare di trovarsene di più grossi. Quando accade che dati vengano estrapolati o account vengano violati, sono due cose che possono essere successe. Uno è qualcuno o qualche istituzione con tante, tante, tante risorse economiche che vuole fare un attacco mirato come quello che è successo, per esempio, appunto, negli Stati Uniti a SolarWinds. Scusate, scusate, non dare sempre tutto per scontato. L'attacco negli Stati Uniti a SolarWinds è stato fatto dall'SVR, cioè, diciamo, dai servizi segreti esteri della Russia. Stiamo parlando di questo genere di cose. Non è che va Costantino e io, no? Per l'appunto. La seconda opzione è l'errore umano, cioè un dipendente o un social media manager che si perde la password o la data a qualcuno fidandosi, cose di questo tipo. L'errore umano in questo caso personalmente a me sembra semplicemente una maionese impazzita della comunicazione di Palazzo Chigi, molto semplicemente, anche perché, come sappiamo, la spiegazione più semplice tende ad essere anche quella più vera di solito. Ma attenzione... Il che rivelerebbe, se fosse come tu ipotizzi, che nella comunicazione del Movimento 5 Stelle ci sono, come dire, legami profondi tra la sfera ufficiale e quella marea di siti non ufficiali di cui, appunto, informazionevera.it ne era uno, ma ce n'era una catena. Ecco, sarebbe, diciamo, non voglio dire una smoking gun, ma ci andiamo veramente molto vicino. Molto, molto, molto vicino, assolutamente. Ma guarda che molto spesso capita anche che si dimentichino anche proprio di togliere accessi a chi non li dovrebbe più avere. Se non è, come dire, complicità, è quantomeno incompetenza, che è grave allo stesso modo o quasi. Però attenzione, questo... Oggi c'è un'interrogazione di Ansaldi al Ministro Lamorgese su questo, perché ovviamente la cosa pone problemi di sicurezza nazionale. Le possibilità sono due. O questo che ipotizzava Palazzo Chigi, diciamo, se c'è stato un hacker, loro avrebbero dovuto denunciare e fornire le prove. Se fosse, come dici tu, diciamo, invece la possibilità di una sciatteria, di un errore da parte di un dipendente, proverebbe che loro sono in rapporto con i siti di diffamazione, di denegrazione organizzata che fecero l'attacco a Mattarella. Cioè, come ne esci, ne esci. C'è un gravissimo problema di sicurezza nazionale in questa storia. No, anche perché... Allora, io voglio ricordare un episodio e poi, come dire, dare un quadro sui pericoli, secondo me, a medio termine. Allora, l'episodio che voglio ricordare è quando venne rieletto il presidente napolitano per il secondo mandato. Qua Nicola ha un punto di vista privilegiato perché era negli uffici di Montecitorio barricato, letteralmente barricato, in una stanza insieme a Vito Crini. In quell'occasione accadde che il social media manager di Grillo, che all'epoca era Pietro Dettori, che adesso credo sia ancora un collaboratore dell'ufficio di Maio, pubblicò senza... da quel che siamo riusciti a ricostruire, senza avvisare i suoi responsabili o Grillo, un tweet in cui chiamò i follower delle pagine social di Grillo sotto Montecitorio a protestare. Un tweet, una comunicazione molto evocativa, molto simile a quello che ha fatto Trump due mercoledì fa. Bellissimo dettaglio, Marco. Tutto già visto. Ritrovaci questo tweet, facci il favore. Tutto già visto, lo proveremo. L'abbiamo documentato in Supernova. Tutto già visto, nel senso, quello che è successo negli Stati Uniti era già successo in Italia, senza le conseguenze drammatiche che abbiamo visto. Però l'Italia si dimostra ancora una volta un laboratorio per questo tipo di tentativi. Immaginate cosa sarebbe successo se qualcuno fosse veramente riuscito ad entrare a Montecitorio quel giorno. Anche perché, come è successo dieci giorni fa al Campidoglio americano, in quella piazza c'erano gruppi di diversa estrazione che si sono trovati nello stesso posto guidati e incitati dal leader di turno e poteva veramente succedere di tutto. Nicola lo racconta bene. C'erano i grillini da una parte, i fascisti dall'altro lato della piazza e tra l'altro la piazza Montecitorio è molto piccola, quindi è molto più difficile mantenere la distanza tra questi gruppi. Insomma, noi l'abbiamo vissuto una cosa del genere. Se voi pensate, noi stiamo vivendo un'epoca in cui, e probabilmente fra qualche anno ce ne renderemo conto perché adesso è ancora fresco e siamo ancora un po' tutti storditi, noi siamo una generazione che ha visto un tentato autocolpo di Stato negli Stati Uniti, con modalità che erano state sperimentate prima in Italia. A me questa cosa fa un po' paura, cioè fa veramente rabbrivillina. Ricordato lì, uno dei dettagli di quel giorno fu l'assalto a insulti molto minacciosi al ristorante dove c'era Dario Franceschini che stava cenando. Fu una roba molto brutta. Oggi Dario Franceschini governa con loro. Sì, sì. Quasi come se qua il colpo di Stato fosse quasi riuscito, no? a fare il consigliere per la National Security. È quello lì della rivolta, dell'assedio fascista al Parlamento americano, quello con le corn, no? Avete presente, no? Sì, sì. Però fammi finire, Jacopo, perché voglio spaventarmi un po' di più, nel senso che noi adesso stiamo sperimentando un altro scenario che è quello di, che raccontiamo da mesi, da settimane, da anni, che è quello di un leader politico che è riuscito a ottenere il controllo del gruppo di maggioranza del Parlamento, di un paese del G7, senza essere sottoposto e senza poter essere sottoposto ad alcun controllo democratico. E parlo di Davide Casaleggio, perché noi l'abbiamo ripetuto tante volte. Davide Casaleggio, attraverso la sua associazione Rousseau, esercita una notevole influenza sul gruppo parlamentare. Soltanto che lui non è di fatto un leader politico. Non può essere impeached come Trump. Non si totopone al voto politico. Non si è candidato nulla. Non ha un ruolo neanche ufficiale. Ora, Davide Casaleggio ha anche le capacità che ha, quindi voglio dire, non diamogli neanche troppa importanza. Mi pare ormai abbastanza fuori gioco, no? Nella dinamica della sopravvivenza. Però immaginiamo cosa possa succedere se lo stesso modello venisse applicato da altri leader politici magari ancora più, come dire, pericolosi e più, non mi viene il termine, però insomma, meno inclini a preoccuparsi del proprio futuro, insomma, futuro economico. Quindi, insomma, io starei molto attento a questa vicenda perché l'Italia sta esportando un po' troppi modelli in giro per il mondo, a mio parere. Beh, già Roberto Casaleggio, che era, diciamo, quello che realmente ha inventato questa cosa, probabilmente. Il figlio Davide è, diciamo, un epifenomeno della storia che ha goduto di un grandissimo potere in quei mesi del 2018, in cui c'era proprio la potenza rampante del Movimento 5 Stelle vincitore. Poi via via questo potere è andato scemando ed è diventato un potere, come dite voi anche nei vostri libri, per carità, relazionale, di business, tutto quello che volete, ma minore nell'impatto sulla dinamica, diciamo, italiana. Però la figura che ha inventato tutto questo è stato il padre, che era, diciamolo, fu definito a genius da Nigel Farage, che, diciamo, è stato il vettore della campagna della Brexit ormai verificatasi. Quel Nigel Farage, che chiama Gianroberto Casaleggio, è genius e poi è, diciamo, ritratto a tu per tu, seduto davanti a un tavolo nel film su Steve Bannon, in una posizione assolutamente subalterna e adorante di Steve Bannon. Entrambi uomini, Bannon e Farage, dei Mercer, di Robert Mercer e la figlia Rebecca Mercer, grandi finanziatori di Cambridge Analytica, grandi finanziatori di Donald Trump nel 2016. E questo è il mondo, cioè, come dire, quello che tu dici, appunto, su Casaleggio è che, appunto, io riporterei al padre, diciamo, al modello teorico e pratico che lui ha costruito, è qualcosa che non diciamo noi. Gli è stato proprio riconosciuto. è in un omaggio tributato. Cioè, mentre, ovviamente, noi sappiamo che Mercer ha dato tanti soldi anche per la Brexit, però, appunto, sappiamo che Banks e Farage sono andati a incontrare Gianroberto Casaleggio e che lo definivano genius, quello da cui abbiamo copiato tutto. Abbiamo un primato in Italia. Il nostro movimento per la Brexit è, parole di Aaron Banks, è carbon copy of the five star movement. È la copia esatta del movimento di Gianroberto Casaleggio. Quello che noi chiamiamo sistema Casaleggio è nato, come dire, come embrione dalla testa di Gianroberto. Davide è stato quello che l'ha ingegnerizzato ed è questo che è pericoloso, secondo me, perché i metodi di Gianroberto erano anche abbastanza spicci, nel senso che lui aveva questo modo di rapportarsi con le persone che poi l'ha portato anche a subire, come dire, tradimenti veri nel momento in cui era più fragile sia dai figli politici che da quelli naturali, come abbiamo raccontato. Davide ha ingegnerizzato questo metodo, costruendo queste scatole cinesi che lui gestisce in maniera coordinata e si è messo a riparo da qualunque conseguenza e controllo democratico che in teoria si dovrebbe esercitare. Stiamo veramente, come dire, testando, facendo gli stress test come è successo negli Stati Uniti ai nostri sistemi democratici. L'Italia è stato un laboratorio per le pulsioni populiste di tutto il mondo, mi viene da dire. Ma io prima vorrei sentire Nicola e poi vorrei farvi una domanda, tornando un attimo su Conte. Io ho ascoltato Marco e Jacopo molto attentamente, anche con un brivido, perché è vero, io ero lì quando Capitol Hill stava per essere Montecitorio. E sono stato felice di avere scritto quel pezzo dentro Supernova, perché se ci fosse... Lo ricordi un po' quale pezzo? Perché io lo so benissimo, quello di Grillo che poi arriva, sale sulla macchina. Se ci fosse bisogno, quello è un pezzettino di storia che riguarda tutti. La cosa andò esattamente così. Quando Giorgio Napolitano fu rieletto, Beppe Grillo si trovava in tour elettorale per le elezioni regionali in Friuli. Stiamo parlando della primavera inoltrata del 2013. Io ero da pochissime settimane il capo della comunicazione del Movimento alla Camera. E un pomeriggio, mentre Grillo dormiva nel suo camper fra un comizio e un altro, il suo social media manager, dipendente della Casaleggio Associati Pietro Dettori, scrisse un post dal titolo «È un golpe stasera sarò a Roma». Cosa che ovviamente mandò in fibrillazione tutti i palazzi delle istituzioni, le forze dell'ordine e anche qualche ambasciata estera. Queste poi sono le ricostruzioni che io ho potuto fare nel tempo. Io mi trovai a chiudermi dentro la stanza dell'allora capogruppo del Movimento, con Vito Crimi, che era il capogruppo al Senato, io stavo alla Camera, blindammo proprio la stanza mettendogli un divano sopra, perché fummo assaltati da decine di parlamentari che erano terrorizzati di quello che stava, di quello che poteva succedere. Negli stessi minuti, obbedendo a quella chiamata alle armi, Piazza Montecitorio si riempì in pochissimi minuti. Lì la stragrande maggioranza erano attivisti del Movimento 5 Stelle, ma c'erano anche iscritti al PD, furibondi perché il loro partito aveva, secondo loro, giusto o sbagliato che sia, bruciato, quindi non eletto al Quirinale, Stefano Rodotà. Poi arrivarono anche dei ceffi della destra, dell'estrema destra. Lì arrivarono, lì ci arrivo nel racconto, lì successe questo, che io provai a chiamare Grillo, che dormiva, e mi rispose Pietro Rettori, a cui dissi in maniera molto, molto, molto decisa, passami Grillo. E nello stesso tempo Vito Crimi chiamava Gianroberto Casaleggio, il cui telefono incredibilmente era staccato. Io non ricordo che ciò sia mai avvenuto una seconda volta. Per quante ore, Nick? Tutto un pomeriggio fino a sera. Cioè, scusate, scusate, aspetta, 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 aspetta. Qui non diamo via questo racconto che per noi è stranoto, ma per chi ci legge, Nico, e ci segue, scusami, per chi segue no. Cioè, praticamente c'è una giornata in cui la politica è in tumulto. Le folle, grilline e anche di destra, sono convinti che è in atto un colpo di Stato. I gestori del blog di Grillo e Casaleggio scrivono apertamente che c'è un golpe. Grillo scrive Marcia su Roma e in tutto questo Casaleggio per ore e ore e ore è missing. Cioè, è disinteressato alla faccenda. Assolutamente sì. Ecco perché... Cioè, lascia fare questo ad altri. Esatto. Ecco perché... Mentre altri scrivono golpe e si paventano, si temono cose folli nelle piazze di Roma, nelle piccole piazze di Roma tipo Santi Apostoli, Casaleggio non c'è, è sparito. Guardate che qua, Nicola, secondo me, scusate, poi non so, io a luna vi dovrò salutare. Dovresti un giorno fare una roba tipo Javier Sercas, Anatomia di un istante. Cioè, proprio raccontare quella giornata in cui ogni ora, come se fosse un capitolo ogni ora, capisci? Cioè, guarda... Capisco che adesso non te lo ricordi più. No, no, io mi ricordo molto bene anche perché io tenevo un diario. Io ho tenuto un diario di quella straordinaria, nel bene e nel male, esperienza lavorativa, professionale, anche umana, che ho fatto. E fu questo, quest'episodio e le insistenze di Canestrari a farmi decidere che prima o poi avremmo dovuto scrivere quello che io e lui, in momenti differenti e con ruoli differenti, abbiamo visto. Cerco di farla breve. Io e Vito decidemmo di assumerci una responsabilità molto forte nella totale mancanza di altre persone, a partire da Grillo e Casaleggio. Io mi assunzi la responsabilità di dire a Grillo, tu qui non ci vieni. Tu non ci vieni e basta. Poi scendemmo sotto nella piazza e io andai a parlare con l'allora questore Improta, mentre Vito andò a parlare con un ufficiale dei Carabinieri che gestiva l'ordine pubblico nella piazza. Il nome non lo ricordo. E entrambi, dicemmo a questi due ufficiali, di far sgomberare velocemente la piazza perché Grillo non sarebbe venuto. Cosa che poi, con l'aiuto di alcuni parlamentari, non quello di Roberta Lombardi che era capogruppo, che mi disse, sono cittadina fra i cittadini, abbiamo fatto girare la voce che Grillo non sarebbe venuto e che quindi quella manifestazione convocata in quel modo doveva chiudersi lì. Il dottor Improta, ricordo bene, che mi disse, abbiamo bloccato all'altezza di Barberini, vale a dire per chi non è di Roma, ha circa 400-500 metri da piazza Montecitorio, un folto gruppo di estremisti di destra, cosa per la quale io l'ho sempre ringraziato. Lo ringrazio in quel momento e lo ringrazio sempre, tutti i giorni che mi restano su questa terra. Quello che invece mi fece rabbrividire fu il racconto che mi fece un collega dell'Ansa, oggi diventato importante uomo-macchina nella propaganda nel Movimento 5 Stelle, che mi si accostò e mi disse, ho davvero una paura folle perché sento discorsi molto strani anche da parte di alcuni esponenti delle forze dell'ordine. Quando io gli chiesi di cosa si tratta, lui mi disse che aveva raccolto, non so mai se lo mise in uno dei suoi pezzi, in una delle sue cronache, allora raccolse una voce che io poi misi nel libro, che sostanzialmente diceva li dovremmo fare entrare, dovremmo togliere i blocchi, dovremmo togliere le transenne, così risolviamo il problema una volta per tutte. Questa è l'attuale portavoce di Virginia Raggi, Fulgione? È l'attuale portavoce di Virginia Raggi, che sono sicuro non vorrà e non potrà smentire questo mio racconto, così come non l'ha mai smentito, e questo racconto è pubblico ormai da anni. Lui fece il suo mestiere di cronista, ma era davvero molto spaventato, e lo ero anche io. Ci fu una coda finale, il giorno dopo organizzammo in fretta e furia una breve conferenza stampa di Grillo in uno spazio molto grande per evitare, e lontano da Montecitorio, per evitare il remake della sera prima, e successe che poi qualcuno, assolutamente con me non cosciente di questa organizzazione, portò Grillo a Piazza Santi Apostoli, dove qualcuno ancora lo ricorderà, la macchina di Grillo fu assaltata, Grillo stesso fu assaltato, una manifestazione non autorizzata, che si concluse, a me non piacciono i riferimenti al fascismo, perché mi sono lavorato con Renzo De Felice, quindi sto molto attento a utilizzare certi termini, che si concluse con un... Grillo sul tetto della macchina bianca in Piazza Venezia. No, si concluse con una passeggiata di alcuni parlamentari capitanati da Alessandro Di Battista, che sembrava a un matrimonio alcolico, molto alcolico, che camminavano su Via dei Fori Imperiali inneggiando e urlando slogan. L'episodio di lui che sale sulla macchina bianca è quel giorno lì, quella mattina lì, giusto? E' quel giorno lì, a Piazza Santi Apostoli, era una domenica. Costantino, scusami, qua stiamo proprio nelle chicche, però ricordiamo che Piazza Santi Apostoli è dietro l'angolo di Piazza Venezia, dove c'è quel bel balconcino dove il fascista criminale si affacciava per mandare l'Italia in guerra, ammazzare gli italiani dietro a lei. Jacopo, una parte sostanziale della comunicazione che tu chiami unofficial, che in quel momento non era proprio così, era quasi ufficiale, propagandò su Facebook facendomi imbestialire il fatto che lì si stesse facendo un'altra marcia su Roma. Tanto che io mi precipitai, venendo a sapere di questo delirio, mi precipitai nell'albergo di Grillo, litigai furiosamente con lui, io sono fra i pochissimi italiani ad avergli detto vaffanculo in piena faccia, e avendo girato le spalle, almeno gli dissi ti prego, visto che c'era anche un sacco di gente davanti al suo albergo, non ti affacciare alla finestra, perché io non voglio vedere la tua foto affacciata a una finestra, con la gente sotto, e almeno quello, Beppe Grillo, se lo evitò e ce lo evitò. Per chiudere, il giorno dopo io mandai una mail, che è disponibile insomma, mandai una mail a Gianroberto Casaleggio, dimettendomi da capo dell'ufficio comunicazione. Era passato circa un mese dall'inizio del mio italia. Resto convinto, adesso metto agli altri, scusami, ti ho fatto riraccontare, Nicola, tu magari volevi commentare, però i fatti qua parlano da sole, la sequenza delle cose. Cioè, veramente, ora non ci avevamo pensato, no, in questa conversazione su Trump, su Conte, di arrivare a questo parallelismo così veramente simile, impressionante, tra l'assedio a Capitol Hill, a Capitol Building, e l'assedio ai palazzi della democrazia in Italia. Fu la stessa cosa, Jacopo, fu la stessa cosa, identica alla stessa cosa, e io posso permettermi di dirlo perché ho avuto un ruolo. Scusa Marco, Marco Canestrari, tu ti ricordi, adesso io devo andare a memoria, ma forse tu qui ti ricordi meglio di me, il titolo La Marcia su Roma apparve anche proprio sul blog ufficiale di Grillo. Ricordo un titolo del genere, devo essere sincero, non ricordo se era relativo a quell'episodio, però mi ricordo che ci fu una cosa del genere. Ma perché Casaleggio era così? Casaleggio, nel senso, non era così, nel senso che per sminuire la cosa, ma lui molto spesso utilizzava frasi evocative per ottenere questo tipo di reazioni, esattamente. Quindi non mi stupirei se fosse quello del genere. Perdonatemi perché adesso faccio il pedante. In realtà non furono i canali ufficiali, quelli quindi gestiti da Gianroberto e dai suoi più sterti collaboratori. Fu un collaboratore del gruppo parlamentare che in conferenza stampa parlò di Marcia su Roma, cosa che scatenò l'incazzatura di Gianroberto e che lo fece decidere di chiamarmi per la seconda o terza volta e di propormi ancora una volta di andare a Roma e di occuparmi... A marciare. Non a marciare, ma almeno a evitare che qualcuno marciasse. A tenere a freno le patronate di qualcuno. Benissimo, benissimo. Quindi non fu il blog di Grillo. No, ok. Ma no, poi questo lo andiamo a cercare. Però Casaleggio ha allevato una generazione di comunicatori di questo tipo. Quindi se la responsabilità non è diretta è perlomeno indiretta, mettiamola così. Allora, in tutto questo è estremamente inquietante. Veramente, veramente davvero inquietante perché io ricordavo l'episodio ma effettivamente il parallelo con quanto avvenuto a Capitol Hill non mi era venuto, non l'avevo fatto. Tutto questo vi vorrei... E poi andiamo alla conclusione perché Jacopo deve andare e noi siamo già in video da parecchie. Più che altro perché non so che cosa stanno facendo i ragazzi nelle altre stanze. Potrei anche trovare... Siccome sono da solo potrei anche trovare la stanza messa a fuoco. La casa nelle stesse condizioni di Capitol Building. Infatti, infatti. Volevo chiedervi, in tutto ciò la figura di Conte, quindi torniamo al punto di partenza, è una figura, come dire, di testa di legno, di scemo inconsapevole che per narcisismo o per volontà di avere un ruolo nella storia italiana e noi l'abbiamo visto, permeabile a tutto, che accetta di tutto, sta lì senza capire in quali strani meccanismi ci si mette oppure è parte di un disegno anche lui, secondo me? No, senza capire lo escluderei. Diventa sempre di più il frontman di un accordo tra pezzi di potere diciamo trasversale italiano abbastanza avariato e pezzi anche di apparati, i pezzi a mio giudizio meno belli del mondo degli apparati, della sicurezza. Ne diventa sempre di più il frontman. No, non direi inconsapevole, non direi una testa di legno. Sicuramente una persona che ha preso sempre più gusto ovviamente a questo ruolo di potere e questa però non è diciamo neanche una novità la parabola di innamorarsi del potere, di se stessi al potere. La vera novità è che appunto qui avviene in un uomo completamente ignoto a tutti, totalmente ignoto. Mi ricordo una cosa che dice un'osservazione molto pertinente che fece Mario Calabresi, ex direttore della stampa con cui ho lavorato tanti anni, poi direttore di Repubblica, disse a un certo punto credo che non sia mai successo nella storia della Repubblica italiana di un premier che arriva a Palazzo Chigi e nessuno in Italia no, nessuno in Italia ha mai sentito la sua voce, cioè non ha non l'ha mai sentito parlare in un evento pubblico e quindi è soltanto un uomo che ha parlato in gruppi diciamo quali possono essere quelli che ne so del gli amministrativisti romani, gli avvocati legati a un certo giro, alcuni professori professori di diritto con poi entrature anche diciamo qui rinalizie, al di fuori di questo ambiente nessuno ha mai sentito la sua voce, ecco, cioè questa è veramente una cosa estremamente... Ma chi l'ha scelto? La scelta com'è? Questa è la domanda. Chi l'ha scelto? L'ha scelto Casaleggio? L'ha scelto Di Maio? No, io penso che allora il canale si è promosso lui? Il canale accertato che abbiamo accertato tutti è attraverso Di Maio, cioè viene usato il tram del Movimento 5 Stelle, in quel momento comandato nella parte romana diciamo dal capo politico Di Maio e diciamo Conte sale su questo autobus, no? Conte lo vediamo la sera del 4 marzo del 2018 nel quartier generale di Di Maio in terza fila in un video agghiacciante che io poi ho riscovato che esulta a pugni chiusi per la vittoria per la pubblicazione dei primi exit poll sulla 7 con Di Maio che è in prima linea che si abbraccia mi sembra con buona fede e Conte è letteralmente in terza fila in quella stanza che esulta a pugni al cielo con il notaio Tacchini il notaio amico di Casaleggio con Alessandro Di Battista e credo ci fosse lì vicino adesso non ricordo più c'era sicuramente Paragone pensiamo questo gruppetto qui quindi il Trump e il Movimento 5 Stelle come ci arriva è un po' più complicato io l'influenza più forte che ho ritrovato sulle sue relazioni è quella vaticanesca diciamo l'amicizia con Parolin la provenienza da Villa Mnazzar stiamo parlando di grossissimo potere italiano e del resto questo non stride con alcuni elementi della carriera professionale di Conte venuti fuori per esempio il rapporto con il famoso consulenza legale di Conte a Mincione nella vicenda rete stiamo parlando quindi degli ambienti Mincione insomma storie che poi collegano anche a tutta la vicenda dell'inchiesta sull'obolo di San Pietro Becciu cose in cui diciamo Conte non è coinvolto né spiorato però diciamo il quadro relazionale lo pone in contatto con molti di questi ambienti qui però sinceramente Costantino credo che sia una spiegazione ancora lacunosa e non bastevole va bene io direi che ce n'è ce n'è abbastanza abbiamo oggi siamo andati un pochino a scavare anche nella memoria veramente dei racconti raggelanti vi ringrazio e Jacopo sempre grazie noi dobbiamo poi parlare tanto di Russia e quindi poi ti voglio coinvolgere nei prossimi giorni su una cosa che sto preparando sulla Russia di Putin e sulle sue influenze che c'è in cucina qualcosa di mio che ha a che fare con la Russia appunto infatti infatti dai va bene grazie a tutti e al prossimo giro grazie a voi ciao grazie